Nome, cognome ed età. Buongiorno, sono Francesca Rossetti, ho 25 anni. Ciao, un porco, 28 anni e mezzo. Precedenti esperienze lavorative. Ho lavorato nell'azienda agricola familiare, occupandomi del settore vendite, ma soprattutto del rapporto con i clienti. Ho lavorato nell'ortofrutta del mio zio Gavino, prevalentemente in ambito agricolo commerciale. Nello specifico, zio, dè, prima qualità, insomma. Referenze. Il mio precedente datore di lavoro ha già scritto una lettera di raccomandazione che ho già svelito alla vostra segreteria. C'è mia zia Mariella, la moglie e il zio Gavino, quello di cui ho parlato poco fa, no? Eh, le può mettere tutto nello su bianco, non mi ha mai creato problemi. Grande lavoratrice. Cosa l'ha spinta a scegliere questa azienda? Sicuramente la vostra internazionalità, perché comunque mi sembra molto interessante il poter lavorare non solo in Europa, ma anche fuori, come per esempio in America. E poi la qualità dei vostri prodotti. Avevo letto un articolo su www.donnafrutta.it che ha cattolato la mia attenzione. Ehm, niente, mi ha colpito la paga, che non è da cani, la possibilità è viaggiare, andare un po' là, un po' qua. Perché pensa di essere giusto per questo impiego? Sono una persona molto affidabile, molto seria, ma soprattutto non ho paura di stancarmi, di lavorare. So usare l'olio di gomito, come si suol dire, e sto a lavorare in company. Motto finale? Il lavoro nobilità l'uomo. Il lavoro è un nobile uomo.